Scusa, è occupato? Sì, sono tutti prenotati e li ho prenotati per le mie amiche che forse vengono Ah, sì, è tutta occupata per le tue amiche che forse vengono Ma cos'è da pazzi? Amo, c'ho una fame Amo, te sei mangiata il panino con la frittata e so i dieci A pranzo che te mangi, topi morti Mi potrebbe dire gentilmente qual è la password per accedere alle slide? Sì, sì, la password La password delle slide è questa qui Università 2018 18 8 2 8 34 Ma dobbiamo mettere 2 8 66 Come pi greco? Ne funziona signorina? Funziona, grazie Bene, bene, brava No, a me non va Ma non c'è il pi greco Ma che è sta puzza de' morto? Caffè? Caffè? Caffè Ci andiamo a prendere un caffè? Ci andiamo a prendere un caffè Amo Ma che lezione è? Psicologia E non devo fare psicologia Caffè Amo, ma che è sta puzza de' morto? Ci sarà sicuramente qualche cadavere in giro Nooo, vabbè Amo, se non sceglie Gianfrancoz che è proprio una scena Sì, non capisci niente Deve scegliere Claudio Perché lui lo fa per le telecamere Ragazze, ragazze, però così non si può, eh E da, e sentottino a cipollari da qua Ma che cazzo vuoi? Ma almeno abbassa il volume Ma tu non è che puoi venire a lezione per guardarti uomini e donne, eh? Stai a casa Stai a casa se devi guardare uomini e donne Oh, ma ragazze, ma un po' di rispetto Scusi, lei, lei, scusi Se lei non è interessato alla lezione Se ne può andarsene Non è che deve disturbare gli altri Ah, ah, mo' sono io il problema Ma se ne vada, ma se ne vada Cioè, queste qua Stanno guardando uomini e donne durante la sua lezione E mo' il problema sono io Ah, signorina Ma ha scelto il moro No, professore Ma io ti fumo per il moro Pure io Pure io L'amore, ragazzi È una cosa bellissima Ma non come quelli che disturbano la lezione In spagnolo hai tre conjugazioni La prima conjugazione Verbi che terminano A Come Hablar Cazzo, ho sbagliato a aula La seconda No, no, non sono di questo corso Come Vivir I like Oui Amo Ma chi è quello lì? Si chiama Claudio Ceppariello Frequentante il primo corso di interpretariato Fa il calciatore di Benevento E su Instagram si chiama Claudio.ceppa Ma è single? No Ma lo diventerà presto questo grandissimo figlio di puttara Oh Ma questo non la fa la pausa No Quante ore sono? Sono quattro Più ovviamente la lezione facoltativa che ti serve per l'esame Che ti serve per l'esame Per l'esame Senza Cettolini Potrei andare a prendermi un caffè Un caffè Già Andrò A prendermi Un caffè Ma lo diventerà presto questo grandissimo figlio di puttara Per l'esame